Si ricorda a tutti gli interessati che il Comune di Agropoli, con delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 1 luglio 2019, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, stabilendo al 15 settembre 2019 il termine entro il quale i debitori devono presentare apposita dichiarazione utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito dell'ente. È un'opportunità assolutamente da non sottovalutare, afferma l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, proponente del citato provvedimento agevolativo in quanto si ha la possibilità di ripristinare anche importi rilevanti ed inoltre se l'importo a pagare supera i 250 euro si potrà pagare in rate mensili a partire dal 31 ottobre 2019. Il regolamento inoltre prevede che sia l'ente a comunicare ai debitori che hanno presentato l'istanza all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento ed eventualmente l'importo delle singole rate. Si precisa che, riguardando il provvedimento esclusivamente alle ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31-12-2017, a seguito di verbali per violazioni al codice della strada, l'ufficio competente è quello della polizia locale.